Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Ilari Blasi si è mostrata in una foto con il corpo completamente gonfio e con un'espressione da molti considerata finta. Ecco l'immagine tanto criticata.In questi giorni Ilari Blasi si sta scatenando sui social mostrandosi allegra, vivace e senza pensieri dopo la separazione da Francesco Totti, ma dietro questo atteggiamento potrebbe nascondersi qualcosa. Una foto apparsa su una sua panfage di Instagram rivela infatti qualcosa che non è sfuggito dai suoi fan che si sono subito accorti che qualcosa non va e che sta provocando dei danni alla conduttrice. Ilari Blasi, l'immagine rivela qualcosa di sorprendente.Secondo alcune persone vicine a lei, le sue continue pubblicazioni sui social non sono altro che un modo per dimostrare a tutti quanti che lei è una donna forte e per non passare come colei che è stata tradita. Questo però non è dato ancora saperlo, visto che né lei né il suo ex marito Francesco Totti hanno dato una loro versione dei fatti e tutto quello che sappiamo dopo l'annuncio della loro separazione l'abbiamo saputo da fonti diverse, con altrettanto diverse versioni. Al momento quindi, non sappiamo quale tra queste sia veritiera e chi ha deciso di mettere fine al loro matrimonio, ma stando a quanto riportato recentemente, Francesco Totti sarebbe stufo di queste speculazioni sulla questione e sarebbe pronto a parlare qualora ne uscissero altri diffamanti. Per il momento però si sta godendo delle vacanze in compagnia di un suo amico, presso un centro termale, mentre la ri di ritorno dalla Tanzania si è fatta vedere a Sabaudia, posto in cui hanno spesso passato le estati assieme. Qui la donna ha festeggiato un amore che non è mai tramontato, quello di suo padre Roberto e sua madre Daniela e per farlo la coppia ha deciso di avere accanto a sé tutta la famiglia al completo. Ecco cosa hanno notato i fan.Nei prossimi giorni è previsto l'arrivo dell'ex capitano della Roma che rincontrerà Ilari per prendere con sé i suoi figli e passare assieme a loro le vacanze per poi tornare sugli spalti insieme a Christian per godersi le partite della loro squadra del cuore. C'è però una foto che sta circolando sul web che ha fatto preoccupare molto i fan della conduttrice. Su una sua fanpage è stata pubblicata un'immagine che ritrae Ilaria Sabaudia con un'espressione apparentemente felice. Gli utenti hanno commentato la foto dicendo che la sua espressione è finta e che trapela tristezza mentre altri hanno fatto notare come il polpaccio della gamba piegata sia completamente sproporzionato rispetto l'altro che sembra essere tre volte la metà. Al momento non si hanno certezze su quello che è accaduto alla donna e la foto la ritrae in compagnia di una sua fan che gli ha chiesto gentilmente una foto al quale Ilari non si è sottratta Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video